buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 31 maggio 2023 se ne va il mese di maggio con tutte le sue perturbazioni con l'alternanza tra tempo bello e tempo brutto lo lasciamo in disparte insomma e lo dimentichiamo perché veramente non è stata una bella cosa vedremo poi come il tempo si evolve per il passaggio tra il mese di maggio e il mese di giugno ma intanto guardiamolo al manaco del giorno e vediamo che cosa si festeggia oggi anzi oggi ricorre una ricorrenza così possiamo definirla ed è quella della visitazione della beata vergine maria oggi si ricorda la visita che maria che era già in attesa di un figlio fece a sua cugina elisabetta anche la incinta compiendo un lungo viaggio da nazareth a ebron la località odierna di ein karen nei pressi di gerusalemme un lungo viaggio specialmente nello stato in cui si trovava maria ebbene appena elisabetta vide la sua cugina pronunciò la famosa frase benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del suo seno e in quel momento il bimbo che portava in grembo ovvero giovanni battista sussultò e in quel momento si dice la bibbia gli fu cancellato ogni peccato al bambino che doveva nascere ed ora vediamo le previsioni del tempo prevalgono condizioni di stabilità in modo particolare sulle coste fatta eccezione dunque per i settori appenninici con rovesci e temporali sparsi le temperature sono stabili 16 le minime 24 le massime i venti sulle coste vengono da nord est così come nell'entroterra il mare è leggermente mosso quindi una giornata ancora soleggiata sulle coste o meno per un po più perturbata nell'entroterra ed ora apriamo il giornale vediamo il Corriere Adriatico oggi vediamo l'esito del Consiglio Comunale particolarmente atteso che si è svolto nella serata di ieri supermercato bocciato per un voto centro-sinistra sfaldato PD spaccato si riassume così un lungo dibattito che si è svolto ieri sera in Consiglio Comunale quando è giunta in discussione la variante di Centinerola ebbene la variante è stata bocciata pensate per un solo voto 9 i favorevoli 10 i contrari altri poi sono astenuti e altri sono usciti dai banchi questo dimostra quale effervescenza c'è stata in Consiglio quale dibattito c'è stato in merito a questa decisione che è stata caldeggiata da una parte dei residenti di Centinerola e da altri invece ostacolata sono volate parole grosse ieri nel Consiglio Comunale quando è giunto in discussione questo ordine questo punto all'ordine del giorno che era particolarmente atteso pensate era stato già rinviato in precedenza sei volte ebbene il Partito Democratico è apparso spaccato la spaccatura è stata annunciata direttamente dal capogruppo del Partito Democratico del gruppo consigliare del Partito Democratico scusate che ha detto che parte dei suoi consiglieri non l'avrebbero votato vediamo appunto chi è che non li ha votato è stata la stessa Giacomoni e poi anche i Luccioli e Luzzi che è di in comune la lista civica in comune quindi due voti importanti del Partito Democratico che hanno dissentito poi non c'era nemmeno un consigliere che forse era dissenziente adesso questo non lo possiamo dire perché poi di fatto insomma non c'era che era Giovanni Clini e purtroppo ha avuto un incidente se la Giunta ritiene prioritario un ampliamento della scuola esistente a Centinarola o la costruzione di una nuova sede per venire incontro alle reali esigenze del quartiere è il pubblico che deve attivarsi ha detto la Giacomoni e la nuova scuola non può essere oggetto di una contrattazione con il privato cedendo in cambio all'autorizzazione di realizzare un supermercato un supermercato che dovrebbe sorgere appunto alla periferia del quartiere in cambio dell'ampliamento della scuola che sarebbe stato tutto a carico della ditta che avrebbe proceduto a realizzare la nuova lottizzazione ebbene un consiglio comunale di cui adesso non si sa come andranno a finire le cose probabilmente la variante verrà abbandonata probabilmente sarà la nuova Giunta ad occuparsi dell'ampliamento della scuola vedremo se la inserirà tra le sue priorità programmatiche oppure c'è sempre il piano regolatore ma sembra che il sindaco abbia detto che per lui ormai la questione è chiusa l'incontro nella sede PD con Minardi per un indirizzo merita un chiarimento lo afferma il segretario dell'Udc Stefano Pollegioni che ha presa la notizia di questo primo contatto che è venuto alcuni anni fa nella sede del Partito Democratico tra l'imprenditore che avrebbe dovuto realizzare il supermercato e Renato Claudio Minardi che allora era vicepresidente del Consiglio regionale ma era anche un dirigente appunto importante del Partito Democratico insomma dice che questo chiarimento fuori sede doveva essere oggetto di chiarimenti vediamo le altre notizie educazione e assistenza patto del terzo settore oggi al Masetti ci sono due appuntamenti importanti che riguardano le associazioni di volontariato quelle che si riuniscono nel terzo settore alle ore 10 ci sarà la firma di un patto per la costituzione di una rete che lega ancor più i collegamenti tra le varie associazioni per rendere più incisivo il perseguimento dei loro obiettivi e poi per quanto riguarda invece il pomeriggio a partire dalle 15 abbiamo un convegno che riguarda in modo particolare le scuole perché le associazioni di volontariato sono intenzionate a operare nel mondo scolastico in maniera sussidiaria per così incrementare ancora di più l'aiuto agli studenti che poi magari si trovano in difficoltà in orario extrascolastico educazione e assistenza patto del terzo settore quindi due appuntamenti a partire dalle 10 di questa mattina e alle 15 nel pomeriggio al cinema Masetti di Fano un salto indietro nel medioevo Fano rende onore ai Malatesta tra un mese il Paglio delle Contrade proposti luoghi, costumi e scene d'epoca ebbene ieri è stata presentata una variazione per quanto riguarda questa iniziativa che non si chiamerà più Paglio delle Contrade ma si chiamerà I Malatesta a Fano rievocando una vecchia denominazione che era stata assunta già negli anni Ottanta quando la Confcommercio insieme al gruppo storico e la Pandolfaccia avevano così realizzato questa rievocazione storica che faceva un po' da contraltare all'affano dei Cesari che rievocava l'affano romana qui invece è di primo acchito l'affano medievale l'affano medievale che a Fano conserva dei monumenti molto importanti basta ricordare il Palazzo Malatestiano la Rocca, la Chiesa di San Francesco con le tombe malatestiane l'addizione malatestiana quell'ampliamento delle mura romane che giunse fino al Bastione San Gallo il Bastione San Gallo che poi fu realizzato successivamente nel XVI secolo dal celebre architetto San Gallo per ordine del Papa ma comunque l'addizione malatestiana già raggiungeva quel luogo e quindi aveva inglobato tutto il quartiere della Ciociaria dei Piatelletti di San Paterniano insomma un ampliamento della città che vide Fano ingrandirsi e irrobustirsi per quanto riguarda la sua economia per quanto riguarda anche la professione di arti e mestieri un salto indietro nel Medioevo la Fano dei Malatesta si svolgerà per tre giorni dal 30 giugno al 2 luglio prossimo e c'è una novità gli spettatori non staranno soltanto a guardare le rievocazioni storiche ma verranno attivati per rendersi loro stessi protagonisti delle vicende che verranno rievocate vediamo una notizia di cronaca a fondo pagina stupro un 77enne accusato dalla moglie più giovane di 24 anni presa per il collo costretta a rapporti sessuali e questa l'accusa che una cubana di 53 anni muove nei confronti di un 77enne fanese che ieri ha sostenuto l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice l'uomo viene accusato di forti maltrattamenti di parole violente ma anche di atti violenti insomma una persecuzione a cui la donna fino a un certo punto ha resistito poi alla fine si è rivolta ad un avvocato ed ora l'uomo è davanti al giudice quest'ultimo si è riservato la decisione sull'allontanamento dell'uomo dai confronti della moglie giriamo ancora la pagina passiamo alla Balcesano a Fossombrone anzi diciamo meglio e restiamo sul fatto della cronaca violenza e maleducazione un arresto per resistenza durante la manifestazione del trionfo del carnevale a Fossombrone al trionfo del carnevale sono state elevate sei sanzioni per ubriachezza altrettante per atti indecenti ebbene un 34enne di Fossombrone è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e violenza pubblico ufficiale e sottoposto all'obbligo di firma presso la locale stazione dell'arma era ubriaco in evidente stato di alterazione psicofisica aggredito ai carabinieri che lo stavano identificando e quindi scoppiata una lite furibonda e appunto l'uomo è stato poi costretto alla ragione e appunto reso inoffensiva inoltre i carabinieri della stazione inoffensivo inoltre i carabinieri della stazione di Fossombrone con la collaborazione dei colleghi di Colli al Metauro hanno arrestato sei hanno contestato sei violazioni per ubriachezza molesta e altrettanti per atti contrari alla pubblica decenza avendo sorpreso i responsabili ad urinare per le vie del centro insomma mentre lì c'erano proprio dei gabinetti chimici che avrebbero potuto preservare la loro privacy e comunque questi sono atti così che non guastano sono atti individuali che non guastano il successo ottenuto dalla manifestazione è stato veramente un momento di spensieratezza e di bellezza per la città metaurense ferito in azienda al giovane amputato la gamba purtroppo si tratta del 22enne di Sant'Ippolito che è stato vittima dell'incidente sul lavoro alla ditta Solari Metalli di Schieppe di Orciano nel comune di Terre Roveresche se vi ricordate è stato ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona e purtroppo i medici non hanno potuto far altro che amputargli la gamba che era stata colpita da schegge di materiale ferroso dopo lo scoppio di una bombola che stava trasportando l'uomo con l'utilizzo di un escavatore dotato di pinza purtroppo questa poi è caduta ed è scoppiata a Mondolfo un bel successo dei ragazzi della scuola Fermi clima l'energia dei ragazzi Banca Italia premia il Fermi nuova banconota secondo posto nazionale per la seconda B della scuola media i bambini erano stati invitati a disegnare una nuova banconota una nuova banconota da parte di Banca Italia con un tema ben preciso quello di elementi grafici e simboli su un tema dove i cambiamenti climatici potessero essere evidenziati essere risaltati cambiamenti climatici di cui purtroppo dobbiamo fare i conti tutti i giorni ebbene i ragazzi hanno veramente redatto una disegnato una banconota particolare la vediamo qui in questa fotografia dove vediamo tutta la classe che spinge il globo terrestre è il bozzetto della banconota creato dagli allunni dell'istituto Fermi che sono arrivati secondi a livello nazionale risultato di gran classe per gli allievi dell'istituto della dirigente Anna Maria Landini raggiunti anche dai complimenti del sindaco Nicola Barbieri secondo in Italia spensate su 1600 classi che hanno partecipato al concorso indetto dalla Banca d'Italia inventa una banconota e questo eccezionale risultato che è stato raggiunto da questi studenti veniamo a Senigallia diamo una buona notizia è stato posato la passerella pedonale che valica il Misa e finalmente il centro di Senigallia non è più spezzato in due garantirà il collegamento tra via Rossini e via dei porti circolani il sindaco Olivetti importante per le attività economiche ma anche per la vita di tutti i giorni dei residenti appunto della città apriamo il giornale a partire dalle cronache regionali dove una bella grafica ci evidenzia come cambia il colore politico nella nostra regione vediamo qui dei colori i colori azzurri sono quelli che evidenziano il governo del centro-destra i colori rossi sono quelli del centro-sinistra il giallo è quello del movimento 5 stelle mentre il grigio è quello dei movimenti civici e vediamo come il rosso si assottigli sempre di più rimane a Pesaro e a Fano rimane a Macerata rimane a Offida e a Monte Prendone oltre che a Grotta a Mare ma vediamo invece come l'azzurro aumenta e l'ultima conquista è stata quella di Ancona Ancona Falconara Senigaglia poi abbiamo Urbino abbiamo ancora Ascolipiceno insomma abbiamo una chiazza macchia di Leopardo che evidenzia come il centrodestra avanzi sempre più nella nostra regione si può dire che per quanto riguarda i capoluoghi di provincia Pesaro è rimasta l'unica roccaforte del centro sinistra senza un'alleanza si esce sconfitti ha dichiarato Biancani candidato in pectore come sindaco di Pesaro dopo i dieci anni condotti da Matteo Ricci ora Biancani come sappiamo è vicepresidente in consiglio regionale il vento ci soffia contro non basta a sapere governare Gergo prima cittadina di Fabriano un anno fa ha vinto al primo turno il centro sinistra non sta affrontando i problemi concreti delle persone ha dichiarato ed ora vediamo invece le nomine delle aziende sanitarie territoriali che sono state rese note ieri dal Regione e vediamo subito che cosa si è deciso per Marche Nord ebbene Gilberto Gentili lascia ed entra Nadia Storti Nadia Storti dal primo giugno prenderà le redini del AST1 di Pesaro ex DG ex direttore generale dell'Azur e commissaria dell'AST2 di Ancona subentra Gilberto Gentili a cui invece va il posto di Roberto Grinda nella azienda sanitaria territoriale numero 4 di Fermo e a commissariare c'è anche un'altra decisione che interessa un po' da vicino per quanto riguarda i trascorsi nel nostro territorio a commissariare l'AST numero 5 che è quella di Ascoli Piceno fino al 16 luglio arriva niente po' di meno che è Maria Capalbo attuale direttore generale dell'Inca ex direttore generale di Marche Nord ed ex commissaria dell'Ast1 di Pesaro questo un po' non lo sappiamo tutti i trascorsi di Maria Capalbo a volere storti all'Ast1 sarebbe stato in primis l'assessore in quota Fratelli d'Italia Francesco Baldelli già tra i principali oppositori della conferma di Capalbo anche lei sponsorizzata dalla Lega a Pesaro è finita così all'Irca insomma nel gioco dei pesi e contrapesi interni al centro-destra e Fratelli d'Italia che acquista sempre più rilevanza mentre sbiadisce un po' il peso politico della Lega questo affermano i giornali oggi vediamo ora altre notizie che riguardano Pesaro vediamo che ricci media sui parcheggi per quanto riguarda Villa San Martino la città dello sport di Villa San Martino ma la palestra non si tocca cittadella sportiva la sosta decide il quartiere che soluzioni adottare ebbene Villa San Martino c'è il rebus della sosta con la nuova palestra il sindaco davanti ai residenti si è presentato con tre proposte non vuole i parcheggi nel giardino della scuola il macchinario verrà spostato timori degli abitanti per quanto riguarda il rumore e c'è anche chi non vuole l'impianto nel quartiere è stata una serata di assemblea pubblica sicuramente animata quella che si è svolta appunto tra gli amministratori e i residenti del quartiere vediamo ancora un'altra notizia che riguarda le antenne ormai le antenne sono un argomento che ricorre frequentemente sui giornali perché c'è tutto un movimento di protesta nessuno vorrebbe questa antenna che sorge dal panorama e guasta tutto il paesaggio violato il vincolo cimiteriale l'antenna qui non ci può stare si parla dell'antenna di Fiorenzuola che da diversi giorni viene contestata vediamo ancora l'articolo che riguarda Urbino dove si è svolta una importante riunione assembleare con i residenti si è parlato della maxidiscarica di riceci una folla dice no sotto accusa il business dei rifiuti e nel 500 all'assemblea di Gallo pensate quanto è stata frequentata c'era anche gente fuori della porta questa è la gente che ha affollato questa iniziativa ebbene in 500 all'assemblea contro l'impianto di riceci critiche trasversali a marche multiservizi partecipata determinata e anche arrabbiata sono questi appunto è questo quello che appare il clima di questa assemblea l'assemblea convocata dall'associazione diversamente lunedì sera a Gallo di Petriano per discutere dell'ampiamento di smaltimento dei rifiuti speciali progettato a riceci ebbene 500 persone hanno stipato il centro civico dove si è svolto il dibattito il sindaco Fabrizioli ha invitato i cittadini a mobilitarsi contro l'impianto perché sulla partecipazione si deciderà l'esito di questa battaglia civica ovvero se tutta la popolazione si mostra contraria probabilmente chi poi dovrà decidere dovrà tenere conto in maniera determinante di quanto dice la gente vediamo anche il resto del Carlino dove abbiamo una apertura un po' più leggera oggi si parla di vacanze quando si parla di vacanze poi adesso c'è anche il prossimo ponte del 2 giugno quindi un venerdì sabato e domenica dove speriamo che con il tempo buono le spiagge e la serenità un po' riempia la nostra vita a 102 anni in vacanza a Torrette amo Fano non manco mai ha detto la signora Maria Biccheri originaria della provincia perugina è un'affezionata cliente del camping mare blu il titolare Claudio Letizzi dice è nostra ospite più longeva le stiamo organizzando una bella festa e beh insomma 102 anni ancora ha la forza di andare in vacanza di divertirsi beata lei ed è un esempio un po' per tutti coloro che desiderano un po' di serenità anche il resto del carlino ovviamente parla di quanto è venuto ieri sera in consiglio comunale supermercato a Centinarola maggioranza bocciata variante KO la variante di Centinarola non passa la maggioranza si spacca chissà se ci saranno ripercussioni politiche in merito a questo voto e poi si parla anche dei malatesta affano la disfida è tratta in titola il resto del carlino dal 30 giugno al 2 luglio l'associazione la pandolfaccia insieme alla Confcommercio riporta in auge l'appuntamento con la storia dobbiamo essere molto attenti alla Fano malatestiana alla Fano medievale perché può rivelare aspetti che al momento vengono così sottovalutati pensate alla bellezza che magari viene un po' misconosciuta delle tombe malatestiane nella ex chiesa di San Francesco la tomba soprattutto di Paola Bianca che ora è un po' così impolverata un po' sporca che dovrebbe essere ovviamente curata in maniera più puntuale ebbene è una delle mete più visitate dai turisti che giungono a Fano che guida in mano appunto vengono condotti davanti al bel portale della chiesa di San Francesco e poi c'è anche un archeologo così possiamo definirli ma più esattamente un intrattenitore che sarà a Fano a partire da domani e Roberto Giacobbo il noto appunto patron di Freedom la trasmissione televisiva che interverrà al festival del Brodetto da Vitruvio al Brodetto Giacobbo arriva al festival e prepariamoci anche noi a questa Kermesse che poi si dilungherà per tutto il fine settimana era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto a risentirci Grazie